Lo facciamo il nuovo tutto il tempo? Allora, a sto punto facciamo il coro dei maschi e il coro delle soldi, ok? Partiamo dai maschi, un, due, tre, devo dire, non ti male, adesso tocca alle femmine, un, due, tre, Averrite, devo dire, veramente, però i maschi sono stati più bravi, sono stati un po' di più questa volta, devo dire, lo rifacciamo meglio, attenzione. Allora, faccio, faccio! Grazie. 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 Grazie.